Buonasera a tutti, allora scopro subito le mie carte. Io ci provo ma vi ammetto che sono emozionata. Questo di solito è un buon segno. Vi racconto una storia. È la storia di Aisholpan Nurgayev che vive sui monti dell'Altai che svettano dominando tutta la Polonia. Magari qualcuno di voi la conosce, la racconto per chi la sa già e per chi non l'ha ancora sentita. Lei appartiene a una piccola comunità di una minoranza nomade casaca e la sua famiglia da ben più di sette generazioni dà i Natali agli addestratori di Aquile. Lo scopo è duplice, il primo è la caccia. Occorre raccogliere selvaggina e procurarsi le pelli. Il secondo è prepararsi alla grande festa dell'Aquila Reale che ogni anno si tiene a Ulaanbaatar che è la capitale della Mongolia e che raccoglie tutti i migliori cacciatori della regione per decretare chi tra loro sia il più forte di tutti. Ebbene la storia che vi racconto è quella di una persona che ha otto anni quando comunica alla sua famiglia che quando sarà grande vorrebbe seguire le orme del fratello maggiore, del padre e del nonno e ne ha tredici quando in altissima quota, in un nido, individua il suo aquilotto che alleverà e addestrerà perché diventino grandi insieme. Pensavo ci fosse dietro, no? Ve lo racconto solo facendola immaginare. Aisholpan è una ragazza. In duemila anni di tradizione e di storia è la prima della sua tribù, eccola qua, di sesso femminile a desiderare di diventare una destratrice di aquile. Vive in uno dei posti più remoti e più sperduti del pianeta, tra i meno popolosi in assoluto, davvero molto lontano dall'idea di modernità che ci illudiamo di avere noi nel nostro mondo occidentale e infatti i vecchi della sua comunità non sono mica tanto contenti. Sono apertamente schierati contro e più banali dicono farà troppo freddo in quota per lei. Chi tenta delle spiegazioni un pochino più raffinate ma non troppo dice serve il corpo di un ragazzo. Le ragazze sono troppo vulnerabili e fragili fisicamente per un training di questo tipo. Per qualcun altro addirittura è impensabile riuscire a immaginare come mai lei non desideri fare come tutte le altre donne della tribù e semplicemente stare a casa assicurandosi che ci sia l'acqua bollente sul fuoco perché quando tornano gli uomini alle tende ci sia pronto il tè. Qualcun altro la fa spiccia e dice basterà un matrimonio il suo per toglierle qualche pensiero strano dalla testa. Maisholpan ha un padre e questo padre ha una macchina del tempo e la sua macchina del tempo è l'amore. È il padre della figlia che ha e non di quella che dovrebbe avere per costume. Dunque le vuole talmente tanto bene che la macchina del tempo li scaraventa nel 3000. Sono avantissimo e senza avere nessun indugio le insegna tutto ciò che sa dell'antica arte della caccia con l'aquila e farà di lei una leggenda. Non so se l'avete mai sentita nominare non vi dico come va a finire ma la sua storia è raccontata in un documentario del 2016 che io ho visto l'estate scorsa insieme alle mie figlie. A me piace proporre alle mie bambine qualche storia forte che possa entrare anche nella memoria emotiva che possa far dire loro anche a distanza di tempo. Mamma ti ricordi quella volta che abbiamo visto, detto, sentito? Lo trovo importante. In questo caso il film ci è piaciuto. Abbiamo avuto solo un piccolo interrogativo su una cosa. Nella versione originale siccome la produzione è statunitense il titolo è The Eagle Huntress che in italiano è stato tradotto come la principessa e l'aquila. Ora non serve un linguista né un interprete per sapere che cacciatrice e principessa non sono sinonimi. Allora io per capire questa faccenda chi ho chiesto? Ho chiesto alle mie intellettuali di riferimento, ho domandato alle mie bambine. Hanno 4 e 7 anni. Lui ho detto bimbe sentite ma secondo voi perché un film che si intitola in inglese La cacciatrice con l'aquila diventa in italiano La principessa e l'aquila? La piccola ha 4 anni e mi ha detto una cosa solo apparentemente superficiale. Mi ha detto mamma perché le principesse sono belle. Allora nella sua piccolitudine ha già colto che il femminile principessizza e attribuisce delle caratteristiche di squisita qualità estetica. Le principesse sono belle. La grande mi ha dato la chiave di volta invece che apre l'argomento. Mi dice beh mamma ma cacciatrice non si dice in italiano si dice cacciatore di solito forse per questo che hanno cambiato parola. Cacciatrice non si dice. Si dice cacciatore al maschile. Cacciatrice forse è un po' cacofonico non lo so certo è inusuale. Intendiamoci io non voglio ingaggiare una campagna contro l'adattamento italiano di un film però voglio entrare e portarvi nelle pieghe del significato. Perché l'ho pensato in questo modo. Non basta scrivere la storia, essere l'unica in duemila anni per aver riconosciuto il giusto nome nella tua storia. Non basta desiderare riuscire a diventare una cacciatrice perché universalmente tu venga riconosciuta come tale. C'è sempre uno scarto tra quello che qualcuna di noi è e il modo in cui il resto del mondo è capace di raccontarla aggirando lo stereotipo di genere. Le principesse sono belle, sono anche più facili. E allora come si fa? Ma poi soprattutto è davvero così? Lunedì prossimo 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. I numeri dell'ultimo report italiano presentato alla Camera dei Deputati racconta che nelle coppie di fascia anagrafica a 18-25 anni stiamo assistendo a una lievissima flessione del fenomeno per un motivo molto identificabile. Le ragazze cominciano ad identificare i potenziali fattori di rischio e si sfilano. Cominciano a lasciare i ragazzi che nella relazione emettono qualcosa di potenzialmente critico. E questo che cosa ci dice? Ci dice che la lingua della trasformazione, del cambiamento parla il femminile. Ci dice che l'azione delle ragazze è profondamente trasformativa e forgia la realtà, l'immaginario collettivo e la risposta maschile. Perché mi interessa stasera? Perché credo che lo possiamo fare anche noi, come genitori, come educatori, come società civile che c'è qua stasera. Tutto parte da come ce la portiamo dentro questa roba qua. Da come pensiamo i futuri di bambine possibili che se vogliono essere, si sentono, intendono diventare delle principesse va benissimo. Ma che se noi adulti per primi non abbiamo dentro anche, come delle cacciatrici di aquile, difficile immaginare che lo diventeranno. Perché soprattutto quando sono piccoli i bambini diventano quello che noi pensiamo di loro. Perché si fidano di noi. Ed è questa la responsabilità che abbiamo su di loro. Io con le mie figlie lo faccio nel modo di prima, cioè intanto le invito a diventare cacciatrici dei loro pensieri. Le invito anche ad andare in quota. Non abbiamo paura del freddo che rovina le guance o dell'aria che si fa rarefatta quando fai dei pensieri che non hai ancora mai pensato. Possono darti un po' di perdita di equilibrio. Io faccio loro delle domande perché loro possano pensarsi. Ed è il motivo per cui ero emozionata all'inizio. Di solito non lo sono, ma non perché le cose non siano importanti, ma sono abituata a parlare in pubblico e vado dritta come una spada. Ma io stasera le ho qua. Il motivo è questo. Sono una grande amante delle parole. Faccio di mestiere la terapia della parola. Ma le parole non bastano, lo diceva anche Diego. Io voglio per le mie figlie e per tutte le bambine dire delle parole che fanno succedere le cose e voglio farlo succedere mentre glielo dico. Quindi io voglio che le mie figlie a 4 e 7 anni o lunedì sera sappiano che esistono occasioni come questa, dove ci sono delle persone che si incontrano anche se fuori piove, si prendono la briga di pensare le cose, di pensarle in un modo diverso. Voglio che sappiano che anche da bambine mi hanno messo dentro delle idee che io con il privilegio di avere un microfono portato in uno spiccio davanti a 120-150 persone e voglio che sappiano che fin da adesso sono trasformative e chiudo con il mio pensiero che credo sia quello che ci salva. La verità è immobile, si dice da sola. La verità resta tale qualunque parola scegliamo per raccontarla. Dunque una cacciatrice resta una cacciatrice anche se qualcuno vuole chiamarla principessa. Buona serata.